Siti internet, annunci, giornali gratuiti, facebook, portali immobiliari e anche siti di grandi catene di agenzie immobiliari che fanno la valutazione gratuita della tua casa online. Allora, perché per vendere o per acquistare la tua casa devi entrare in un'agenzia immobiliare? Potrei dirti tutti i servizi e le assistenze che un bravo agente immobiliare deve fare, ma in realtà il lavoro maggiore che deve fare è mediare. Esatto, un mediatore. Bisogna saper dialogare con chi vende e sapere ascoltare chi compra a aiutarlo a risolvere i propri dubbi. Infine, saper creare un ponte comunicativo tra le due parti, perché magari chi vende è un manager di una multinazionale abituato solo a comunicare tramite email e chi compra sono giovani ragazzi, magari da poco in Italia, che hanno un bisogno del contatto umano e di poter parlare e affrontare ogni volta i loro dubbi di persona. Un bravo agente immobiliare diventa a tutti gli effetti questo ponte, un collegamento tra due mondi diversi per far sì che entrambi raggiungano il loro scopo comune. E tu? Che esperienza hai avuto quando hai acquistato casa? Scrivimi i tuoi dubbi e li affronteremo assieme. Ci vediamo nel prossimo video!